buonasera a tutti oggi facciamo una puntata una puntata un po più breve eh aspetto sempre che di leggere i primi saluti perché facebook i primi secondi dove io tiro il pippone mi taglia sempre quindi nell'attesa dei primi saluti io sto qua eccoli ciao dario buonasera dario sempre buoni grazie di esserci forza ragazzi sperando che sia un orario fattibile anche per voi che di cui tanti sono ancora in ufficio ciao vincenzo la staria o la staria l'angelo catalano ciao Gianfranco Ranelli un saluto anche a te ciao Rossana Marche allora ragazzi buonasera Giuseppina lasciamo passare i primi secondi poi facciamo questa puntata veloce del del venerdì però è ricca è ricca ragazzi ci sono un sacco di interessanti ovviamente la devastante sto bene Rosa ti ringrazio ti ringrazio spero che anche tu stia bene ciao Rino ciao Salvatore Suterà c'è pure Conte in diretta no Giuseppe dovevamo metterci d'accordo allora sarete come facciamo a distribuirci qua bisogna essere più coordinati ciao Rita va bene ricordatevi che questo video va sempre su oltre su Facebook anche su YouTube lo rilanciamo su Instagram e anche su Twitch quindi mi raccomando ragazzi eh se ora eh non riuscite a vederlo ditelo e riguardatelo più tardi buonasera ragazzi facciamo questa veloce puntata che purtroppo un appuntamento alle diciassette ciao Lorenzo ciao Sonia ciao Maria Alma ciao Angela Silvia eccetera eccetera ciao grande a te Tina ciao Caterina e che bella questa punti insieme Vito Zivoli Maria Grazia Chiara allora ragazzi eh ovviamente sempre siete voi protagonisti e eh però non posso che partire da una notizia che voglio commentare voglio farvi commentare anche se non voglio rimanere sempre solo su questo argomento ciao Aldo grazie mille nonostante Giuseppe Conte in diretta che qualcuno ci ha detto in un messaggio siete tantissimi e questa è sempre una 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 soddisfazione ciao Valeria grazie di esserci sempre allora ehm notizia devastante di stanotte centrale nucleare la più grande centrale nucleare ehm Ucraina Ucraina e eh tra le più grandi e se non la più grande in Europa guardate un attimino qua questa notizia chi di voi ha ha seguito un po' le vicende drammatiche di oggi ehm veramente devastante i russi hanno bombardato la più grande centrale nucleare d'Europa non voglio soffermarmi troppo ragazzi questa per me ciao Giuseppina come hai visto Giuseppina ciao Daniela stiamo stiamo guardando la notizia che eh più grave delle ultime delle ultime ore del dell'escalation in corso dell'invasione in Ucraina ma ehm quello che poteva accadere questa notte era potenzialmente devastante se leggete nel sottotitolo avrebbe potuto se esplosa avere danni produrre danni dieci volte superiori a Cernobil cioè non so voi ragazzi ma questo significa che sarebbe stata la fine dell'intera Europa visto che eh l'Ucraina è molto ma molto vicina all'Italia e quindi questa è una guerra devastante potenzialmente però volevo fare un aggancio insieme a voi un argomento che voglio che abbiamo affrontato già in tante occasioni non voglio che sia oggi l'oggetto del del dibattito però ragazzi miei eh questa centrale qua la più grande d'Europa se fosse esplosa saremmo praticamente tutti tutta Europa sarebbe stata contaminata e nonostante ciò in Italia e anche l'altro giorno quando abbiamo votato la risoluzione ucraina con con tutto il governo interviene in aula Matteo Salvini e dire a dire a ridire a ribadire che è arrivata l'ora del nucleare nucleare che appena scoppia mezzo casino siamo tutti morti cioè io non lo so ragazzi quanto stanno indietro e quanto sono antistorici e quanto sono inascoltabili e quanto sono vergognosi quelli che continuano a portare avanti sta sta centrale qua Ucraina a decine 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 di anni e questi invece che vanno avanti perché sono abituati a produrre energia in questa maniera ma è il passato è il passato in Trinità abbiamo politici che dicono che è il futuro comunque io non lo so ehm avete per caso sempre parlando di Saldini rimanendo Claudio Britti ciao Danilo tu pensi che questa informazione senza unico permetto che sono contro la guerra e che Putin ha sbagliato ma perché nessuno cerca di vedere la situazione in maniera distaccata Claudio Britti tu affronti un argomento necessario eh doveroso la Nato con a capo gli Stati Uniti e tutti gli altri paesi della Nato in particolare quelli dell'Unione Europea supini e piegati agli Stati Uniti ha fatto errori enormi e non ha mantenuto promesse nel corso dei decenni ultima quella della promessa a eh alla Russia che si si era appena l'Unione Sovietica sciolta di non fare un centimetro in più da Nato ad est verso la Russia per evitare che ci fosse la percezione dell'avvicinamento delle armi nucleari della Nato in particolare dell'Occidente con gli Stati Uniti cosa non fatta quindi ci sono responsabilità enormi però uno oggi è attaccato uno oggi è invaso uno oggi ha utilizzato le le armi dobbiamo ristabilire la pace cioè vivere il presente perché il futuro si è di pace e non di guerra e di morte e poi dopo però bisogna mettere i puntini su lei sui disastri della Nato che non ha fatto e non sta facendo gli interessi dell'Unione Europea perché tutto quello che sta accadendo sanzioni comprese che hanno e spero possano avere l'obiettivo di pacificare l'Ucraina e la Russia in particolare portare a un negoziato i russi con gli ucraini però dopo bisogna chiedere agli Stati Uniti che il gas gratis che il gas sottocosto ce lo devono fornire loro gli aiuti dei danni economici e quindi sociali che subiamo noi europei e non gli Stati Uniti ce li devono ripagare gli Stati Uniti o no detto questo ma voi sapete chi dopo la chiamata alle armi di civili fatta da Zelensky il presidente ucraino ha risposto sapete chi sapete che è stata creata questa legione internazionale dove il presidente ucraino dice venite ad aiutarci arruolatevi in questa legione potete venire da qualsiasi paese armatevi difendiamoci difendeteci ok quindi non sono gli eserciti dei paesi della Nato ma sono cittadini sapete chi ha risposto lo facciamo vedere ma che siamo Anna cosa dice Anna sono stata sotto i bombardamenti da piccola Bologna città molto bombardato ora 84 anni ma ancora sento il rumore degli aerei sono terrorizzata oggi Anna sì e dobbiamo la tua esperienza deve i tuoi ricordi devono aiutarci a uscire a non commettere più a non vivere più certe situazioni ma stavamo parlando della chiamata alle armi nella legione internazionale fatta di civili non di militari fatta da presidente ucraino vogliamo vedere chi ha risposto eccolo fenomeno pronto lega salvini però io io pronto ad andare in ucraina come combattente per la pace ok poi ha risposto un altro mentre lello ci dice che salvine è un avvoltoio che approfitta di tutte le situazioni vabbè fa solo propaganda però di oh guarda una cosa coraggiosa no ragazzi amici qua dice che si vuole arruolare andare la difendere un popolo invaso dobbiamo vedere chi è altro risposto a grande grande pur di non andare più in galera andrebbe in guerra si potrebbe dire no chi è fabrizio corona andrò voglio morire in gloria il dopo salvini corona e ci doma la domanda che viene spontanea ma poi salvini che è andato no perché poi l'ho visto l'ho visto oggi mentre daniele si dice che sono capace di parlare a vanvera mentre l'abbiamo visto oggi o ieri partiamo un po dove è andato salvini guardate un po a ragazzi scusate ma è colpa nostra perché lui diceva di di volersi arruolare per andare a fare un combattente per la pace ma non in ucraina non dove lanciano le bombe ma cosa abbiamo pensato è andato all'ambasciata ucraina non è andato in ucraina nel territorio bombardato dei militari russi dalle truppe russe per conquistarlo è andato all'ambasciata ma cosa credevate ragazzi ma è salvini c'è salvinì c'è matteo qualche citofonava scusi c'è quando uno spacciatore cioè ragazzi è andato all'ambasciata lui è nato lì ecco lui si è armato di un foglio di carta per fare il combattente per la pace in italia di fronte all'ambasciata ucraina angelina che ci dici siamo sicuri che accogliendo ucraini non prendiamo in casa anche i loro nazisti beh io direi io direi guarda che oggi dobbiamo salvare le vite ai bambini e alle mamme e ai padri che non stanno combattendo sul loro territorio per difendere raffaele polese mandiamo salvini e corona farebbero talmente ridere che probabilmente darebbero potrebbero dare una mano posso farvi vedere in questa puntata flash una chicca straordinaria rimaniamo nell'emisfero della lega c'è un video forse forse c'è un video è andato in qualche sagra si dice giulia 40 c'è un video breve di oggi o di ieri comunque recentissimo dell'ex candidata della lega per la regione toscana scusate ragazzi ecco c'è il pezzo poi trovate anche il video è ucraina viatico per tutti quelli che scappano dall'africa lo rileggo cioè questa qua che si chiama susanna ceccardi che è il la front woman cioè la donna politica più importante della lega in toscana perché salvini è la candidata per vincere dice in un programma sky tg 24 leggo che ha una domanda fatta dall'intervistatore sul ma accogliereste anche gli africani che si trovano in ucraina bombardati e seguito della guerra chiedono quindi di essere rifugiati quindi di trovare ristoro e presenza in italia lei dice praticamente no perché potrebbe essere lei dice un viatico per tutti quelli che scappano dall'africa allora qui dobbiamo seguire solo il suo ragionamento e fatelo anche voi poi commentate perché se alla domanda ma gli africani che arrivano bombardati anche loro in ucraina vengono qua non li accogliete siamo siete alla lega quindi vi conosciamo un po no lei dice no non può essere un viatico per quelli che scappano dall'africa quindi il suo ragionamento è devono scappare dall'africa per farlo vanno in ucraina a farsi bombardare ok perché questo è il suo ragionamento quindi dall'africa vanno in ucraina a farsi bombardare e poi dopo grazie alle bombe ucraine chiedono di essere richiedenti fanno i richiedenti asilo quindi chiedono asilo in italia silvio urbano ma doveva andare all'ambasciata russa a citofonare a putin per dire baschi come come parla settimana con la leggo cioè ragazzi sono ore drammatiche devastanti e questo è il livello di una certa classe classe politica che la rossana rosanna pucci ma come fanno i leghisti a stare dietro ad un elemento comico del genere è un essere incompleto e siccome tra pochi minuti devo andare vi faccio vedere un'altra cosa vi faccio vedere quello che è capitato a uno dei più grandi politici della storia un ex presidente del consiglio entra antonino carollo ci dice ma organizza un bel tour in ucraina e mandarci i nostri migliori no mandiamo ma ma bella lottiamo invece per per la pace caro mio cos'è successo uno dei migliori dei migliori dei migliori bravo onesto leale in queste ultime ore vogliamo farlo vedere così è no perché renzi condannato dalla corte dei conti 70 mila euro per danno era reale sapete che fate fatica a trovarlo se andate a digitare andate cercare in giro quando il sottoscritto che in una diretta di 50 minuti aveva detto sbagliando aveva sbagliato una parola che diceva che l'ucraina era nell'unione europea invece di dire che l'ucraina era nell'europa era in europa mi hanno messo su tutte le home page dei principali siti online di informazione quindi c'erano le bombe i siti le fotografie le notizie con le bombe poi c'era come se io fossi stato come come ho detto responsabile di chissà quale mi sfatto una parola in una comunicazione informale se non è un seminario universitario non è un'opera di didattica di di spesso la nostra è una comunicazione informale video informazioni che conosco che apprendo in parlamento degli studi che faccio eccetera eccetera ma questa roba qua non si vede da nessuna parte non si vede da nessuna parte dovrebbe essere sufficiente per vabbè che renzi aveva già dato decine decine di esempi per essere sufficiente a non essere più considerato politicamente vabbè ma di fatti col consenso che ha vabbè luigi oliverio voi politici dovete fare solo una cosa vietare l'espansione della nato e dell'america nei paesi dell'est la nato e l'america hanno rotto e poi le armi all'ucraina non si devono mandare vogliono continuare a fare la guerra sì sì e io ti dico di più luigi ora è giunto il momento che tutti perdano qualcosa che la nato perda qualcosa che qualche cosa venga concesso a putin perché nel corso dei decenni la nato delle responsabilità l'hai detto tu e lo stiamo dicendo tutti noi e dall'altra parte ovviamente putin deve rinunciare a diventare l'unico padrone dell'ucraina magari con un governo fantoccio fatto eleggere dal dallo stesso ok quindi bisogna trovare una soluzione che prima di tutto salvaguarda le vite umane ma soprattutto cari miei il fatto di avere il coraggio di cedere qualche cosa a un unico il principale fine il principale risultato è che salvano decine decine di migliaia di vite umane ucraine e potenzialmente milioni di vite umane se dovesse scoppiare una guerra molto più grave anche al di fuori del confine ucraino bruna marzullo due minuti e poi ci lasciamo io mi ricordo un video su youtube in cui venivano intervistati tanti ragazzi che lavoravano per renzi e lo scopo era screditare grillo e movimento lo sappiamo perfettamente abbiamo fatto un'interrogazione parlamentare abbiamo fatto di tutto all'informazione quella di sistema che è quasi lobby finanziarie o politici e quindi ha alle spalle interessi completamente diversi dall'interesse generale che loro hanno l'obbligo di soddisfare che è quello di dare informazioni vere non ce la faremo mai non ce l'ha fatta al movimento cinque stelle possiamo dirlo avere il cazzo di coraggio di dire che siamo stati forti un anno e abbiamo fatto tantissime cose ma dopo non abbiamo più avuto il coraggio la forza anche a causa del covid e degli impegni del covid ovviamente adesso della guerra di stravolgere la qualità dell'informazione italiana cancellando i conflitti di interessi tra grossi gruppi industriali e grossi imprese a comandate di compadroni politici e l'informazione e l'informazione pasquino punti si dovrebbe anche domandare come mai tutte le nazioni facenti parte dell'ex unione sovietica chiedono di entrare nella nato in democrazia è difficile dire no sì sono 14 le nazioni dell'ex asse sovietico che sono una volta smembrati si è ottenuto una volta ottenuto l'indipendenza sono entrate nella nato tutti i giornalisti sono occupati a raccontare la guerra non hanno tempo per denunciare quel che fa mister migliore dei migliori è situazione comunque molto complicata ragazzi stiamo siamo vicini stiamo stiamo sempre collegati antonio grassi e poi vi devo salutare ragazzi hanno vietato i ragazzi disabili partecipare alle olimpiadi russia ma che gente ci sta al mondo che stai parlando a partecipare all'olimpiadi di russia e bielorussia quindi mi stai dicendo antonio che a ragazzi russi disabili è stato vietato il non lo so questo l'informazione posso chiedere altrimenti sarà riguardo alla votazione del 10 11 marzo non so niente so quanto voi è arrivata come mail come scritto al movimento 5 stelle anche a me questa mail per partecipare al voto dove penso che dopo le riunioni con grillo e conte e nota gli avvocati abbiano visto che la strada migliore era quello di fare questa votazione speriamo che non ci siano ulteriori corsi anche se sono già stati annunciati e che si possa riprendere andare avanti perché veramente ragazzi dobbiamo dirci che purtroppo qualche d'uno si sono stati fatti degli errori per l'amor del cielo non hanno ammazzato nessuno non hanno rubato niente però qualche d'uno che ha avuto in mano il movimento per un po di tempo ha fatto delle cazzate enormi oggi forse non ha ancora capito quello che ha fatto sbagli soprattutto principali quelli di romper delle dei legami io dico familiari e parentali parlo con russo con casaleggio con di battista con fuoriuscite eccetera eccetera e assottigliare le nostre forze nel campo di battaglia e poi non diciamo che magari andare a stringere le mani nemici e nemici non si stringono le mani detto questo rimaniamo un movimento 5 stelle lo dico con certezza oggettiva la migliore più indipendente forza politica che ci sia che va solo rafforzata abbiamo presidente conte che spero venga torni velocemente essere presidente si contorni di consiglieri forti indipendenti che dicono sempre la verità lo consiglio bene senza doppi fini e che il movimento torni a produrre risultati per i cittadini l'ultimo l'ultimissima carlo per longo pensi che sia giusto che si arrende russi presidente ucraino per salvare la sua gente scongiurare una guerra in europa no arrendersi russi significa lasciare a loro che siano le loro condizioni soddisfatte le condizioni devono essere di entrambi in questo la diplomazia e il negoziato ha l'unica strada da percorrere ragazzi grazie di questa puntata flash ci vediamo martedì avremo ancora un sacco di cose da dirci rilanciatelo anche dopo ricordatevi che siamo sempre sotto attacco ogni singolo secondo della nostra controinformazione ogni singola parola del sottoscritto viene scandagliata per trovare un errore una parola ho sbagliato in decine di ore di diretta ne sbaglierò ancora me la prenderanno me la schiafferanno da tutte le parti questo significa che controinformazione oggi dà fastidio e voi se date fastidio significate che siete nella parte giusta della società del di chi oggi vuole fare qualcosa per la gente va bene dai vi mando un bacio grazie grande buona venerdì incrociamo le dita che le cose non peggiorino ci vediamo martedì prossimo grazie a tutti grazie a tutti